Ebbene sì, sono tornata a Milano. In realtà non è la mia prima volta da quando ho lasciato questa città, ma è la prima volta che ho deciso di portarvi con me, per vivere insieme questi giorni e respirare questa città che in fondo ha sempre un pezzo di cuore. Stavo camminando per andare a prendere la metro e in questi giorni sono a casa della mia migliore amica che si è trasferita a Milano per studiare. Tra l'altro ho passato un po' di giorni con lei, abbiamo fatto festa per creare il suo compleanno, mi ha fatto vedere la sua università e sono entrato un po' nella sua vita. Abbiamo strariso perché il quartiere dove vive lei adesso è letteralmente a 10 minuti a piedi, 15, rispetto al quartiere di dove vivevo io quando ero a Milano. Quindi abbiamo iniziato a fantasticare di quanto in un universo parallelo, molto probabilmente saremmo state quasi vicine di casa. Ho fatto un po' di giretti e mi sono fermata al parco, parco Sempione, stavo leggendo un libro e mi stavo guidendo un po' il tramonto da qui, le ultime ore di luce. Tra l'altro c'è una temperatura pazzesca, cioè si sta benissimo. Io penso che giù in Salento faccia più freddo in questo momento. Anzi, per rendere omaggio ai miei 26 anni non è tanto il freddo quanto l'umido che ti entra nelle ossa e quindi giù io percepisco molto più freddo. Comunque, a parte gli scherzi, mi sto godendo il mio tempo qui. Mi ricordo dei momenti molto belli del periodo in cui ho vissuto a Milano, quando venivo qui al parco, prendevo qualcosina da mangiare da sport, facevo un mini picnic, leggevo un libro e mi godevo un po' di tempo in natura e oggi ho fatto un po' la stessa cosa. Già che ci sono, vi faccio curiosare dentro il mio beauty che ho portato per questi giorni. Visto che ho portato un beauty abbastanza compatto, ho pensato di farvi vedere quello che porto quando sono in viaggio, ma in realtà sono i prodotti che uso un po' tutti i giorni. Li ho messi dentro questa pochettina realizzata a mano da questo brand, l'ho presa su Instagram, l'avevo puntata da un po' e c'è una grande richiesta perché sono realizzata a mano, quindi sono stata molto felice quando sono riuscita a prendere la mia. Ed è con questi fiorellini deliziosi e l'interno a quadretti rosa. Allora, vabbè spazzola perché in realtà ho un altro mini beauty per la parte più skin care eccetera, qui non c'entra quindi vabbè. Spazzolina, questa qui è quella che uso un po' di più di tech con le setole morbide, fantastica. E adesso partiamo con quello che c'è qui dentro. Qui ho travasato del deodorante in crema, l'ho giusto travasato per portarne poco. È crema, diciamo che uso multifunzione viso, mani, so qualche irritazione. È una delle creme che uso di più, la trovo anche abbastanza protettiva sulla pelle quando c'è il vento, freddo. È abbastanza filmante. Gel idratante, oil free, questo qui lo sto usando per lavare il viso ed è di bioefficina toscana. Lenti a contatto, giornaliere. Il mio profumo preferito, quasi finito in realtà, che è questo qui all'iris di erbolario che profuma di fresco e di pulito, un po' di bambolina. Burro cacao, ho questo qui di essence e anche ho portato anche questo qui di Crazy Rumors al chai, spiced chai. Io amo mettere cose idratanti sulle labbra perché ho la sensazione di labbra secca. Un po' di cose per sopracciglia, vediamo. Queste forbicine, per eventualmente accorciarle, è un pettinino. Entrambi sono di essence, pagati pochi euro. Mini rasoio e pinzetta. Primo gel per sopracciglia, questo qui è di essence, carino ma non il mio preferito. Il mio preferito in assoluto è questo qui di espresso, che ho ripreso tra l'altro negli scorsi giorni quando sono passata dalla rinascente. Questo è il migliore secondo me. Aiuto per le labbra, ho preso un tipo burlabbra leggermente colorato, questo qui di essence. Essence 2 Lip Plumper volumizzanti, un po' il peperoncino. Questo qui di Allegra Natura e questo qui che lascia un bel colorino, che è quello che ho anche su adesso, di essence. Sto andando totalmente a caso. Per la base utilizzo questa CC Cream. È una crema leggermente idratante, leggermente uniformante, colorata di Shawn, forse si legge. Comunque mi piace tanto. È correttori. Questo qui di Catrice e questo qui sempre di Catrice. Ok, siamo praticamente alla fine. Questo qui è uno dei blush che lo so di più. Mi piace tantissimo, sempre di espresso. Ed è uno di quei gel trasparenti che reagisce con il pH della pelle, quindi è trasparente. Però poi quando lo metti sulla pelle diventa più rosato e effetto un po' glossato. Anche sulle labbra è molto carino. Mascara, sempre questo qui di espresso marrone, che è il mio mascara preferito da tutti i giorni. È anche quello che ho in questo momento. Blush, questo qui di Barona Beauty. È un illuminante che uso spesso anche per illuminare l'occhio. È sempre questo qui di Barona Beauty. Ok, questo qui è tutto quello che c'era dentro il mio beauty da viaggio, barra da tutti i giorni. Che avevo tersa! Esperienza mistica perché è sabato, stiamo facendo un giretto vicino ai Navigli. Il che è molto divertente perché c'è un sacco di gente e io ho una visione abbastanza spalzata di Milano, avendola vissuta durante la pandemia, quindi non si usciva e se si usciva c'era pochissima gente in giro. Invece adesso che ci torno e non ci sono più le restrizioni, ovviamente c'è un sacco di gente. Tra l'altro non sapevo, ma anche sul Naviglio il sabato fanno un mercatino dove si trovano alcune cose secondenno usate. Io andavo sempre a quello di Viale Papiniano il sabato e adesso scopro che c'è anche qui. Quindi sta per chiudere tutto perché era del tramonto, però è una bella passeggiata. Si cerca qualcosina, ci sono anche oggettistica e accessori vari. Ok, sto rientrando a casa. Devo dire che in questi giorni non sono stata molto fortunata con i mezzi di trasporto perché oggi in zona San Siro c'era la partita e quindi i mezzi erano strapieni. E ieri c'era sciopero dei mezzi quindi per tornare... Cioè è stato un delirio praticamente. Però oggi sono molto felice perché sto aspettando la mia cena di trasporto che mentre io sto camminando sta giungendo a me e io ho molta fame. Ok, grazie per farmi la cavalletto. Ecco la mia cena. Ok, allora il menù prevede una Coca-Cola zero e poi ho preso un burger. Burger con le patatine. Patate miste, dolci e non. Guarda questa, un furto ladra e questo è il burger che è molto invitante. Allora possiamo mangiare? Si. Facciamo vedere Clementina. Questo è Clementina, questo è un nome? Turipana. Ok. E poi c'è Bulbo. Profetz 이전. There. Ce Herbert. E. Persona. E? Ciao. Ciao. approfittando del bel tempo ho fatto un diretto a City Life mi sono fermata a leggere un libro e poi in un caffè a prendere un ciai latte che mi manca sempre tanto perché giù a Lecce in realtà in Salento non lo trovo da nessuna parte quindi quando sono in giro in posti dove lo fanno ne approfitto sempre e un po' di journaling mi sono messa a scrivere è stato piacevole, mi sono ritagliata del tempo per me per godermi questa giornata in realtà in questi giorni a Milano è tutto così familiare ed è strano perché mi sembra da una parte che il mio flusso qui non si sia mai interrotto eppure se mi fermo per un attimo a pensare è tutto così familiare ma io sono tanto diversa perché ho passato non tanto tempo ma sono passate tante cose importanti e io ho lavorato su di me e su tutto il vissuto e quindi mi sento seppur la stessa persona anche profondamente cambiato dentro e quindi è molto bello ritrovarsi in un posto che ti risulta familiare ma vedi insomma la crescita che c'è stata e quindi niente fondamentalmente sono felice di essere tornata di essermi ritrovata e di aver ritrovato un posto in parte del cuore di essermi ritrovata